gta 5 online al casino ciao e benvenuto in questo video oggi proviamo la fortuna scambiamo mille fish mille dollari le punteremo su un cavallo vediamo un po cosa saremo fortunati e vincerò qualche cosa riviviamo mille fish se ci riusciamo ecco qua mille fish abbiamo ritirato mille dollari e andiamo a scommetterli sulla corsa dei cavalli spaltiamo le slot machine che sono noioso entriamo dentro la sala delle scommesse intanto da notare il mio ottimo abbigliamento molto tamarro ti sediamo scommettiamo sul qualche quota alta il numero 1 quadro da 22 sicuramente non uscirà però che dovesse vincere tutte mille dollari scommetti mi hanno scommesso sul numero 1 il numero 1 che attualmente al terzo quarto posto quinto posto recupera la posizione ed è terzo ed è secondo il numero 1 al terzo posto il 5 prova la fuga scatto del 2 il numero 1 non si vede più anzi no il numero 1 è primo ottimo che sono al primo posto sono al primo posto e ho vinto ho vinto incredibile la prima volta che è successo ho vinto 23 mila dollari e io non voglio scommettere più vado a incassare il bottino vincito dal casino e vado a incassare qua si rientra svegliato strada e vado a incassare la prima volta che succede che avvinco tutto live in diretta anche perché è la terza volta che gioco scambia fish si tira fish scambia fish vediamo un po' se c'è la selezione di tutto è fatto 23 mila fish vuoi davvero scambiare 23 mila fish per 23 mila dollari? conferma perfetto adesso mi tocca solamente salvarle andiamo su internet servizi finanziari banca è lo principale deposito e ho depositato già perché non posso depositare forse li depositare oggi in automatico soldi 0 quindi già li ho depositati per questo video è tutto grande vincita al casino iscriviti al canale clicca mi piace e ci vediamo nel prossimo video di GTA 5 ciao ciao